Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980 punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche Punto in Viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni.